ariete dovete mettere in conto qualche intralcio nello svolgimento dei vostri programmi ma siete abbastanza carichi di energie per affrontare le situazioni con un piglio positivo venere entra in angolatura favorevole e vi invita a pensare all'amore e a rilassarvi toro periodo che vi vede in movimento avete molti progetti che vorreste realizzare e si intensificano relazioni e contatti un po insordina le questioni di cuore che risvegliano gelosie mentre prosegue ancora per qualche tempo la sensazione di irrefietezza gemelli si amplia la positività del vostro cielo astrale che elargisce occasioni di incontri amorosi una maggiore volontà di porvi in sintonia con chi vi sta vicino anche se esistono contrarietà che vi disturbano vedete davanti a voi prospettive più luminose cancro si acquietano i dissidi amorosi ma non si districa per ora il grudiglio di idee confusa e che vi inclina a chiudervi nel vostro mondo il senso di insoddisfazione provocato da un periodo di mancate risposte ai vostri problemi prosegue ma qualcosa si muove positivamente leone venere entra in aspetto di opposizione e si accoda a marte suscitando reazioni aspre nei rapporti di coppia un momento di nervosismo e contrasti in amore cercate di organizzare le vostre energie rivolgendole a questioni di stampo concreto al lavoro vergine giornata che risente di un appannamento emotivo di un tono vitale fisico basso mentre siete in forma mentale per quanto riguarda la voglia di elaborare qualche programma intrigante e per la capacità di comunicare e farvi ascoltare bilancia le incertezze del periodo offuscano i vostri giudizi che rischiano di cadere in errore meglio attendere che le situazioni si chiariscano potete recuperare l'accordo con chi amate oppure migliorarne la sintonia i sentimenti tornano ad assumere un posto privilegiato scorpione il vostro cielo astrale inasprisce le faccende di cuore emerge qualche malinteso che suscita reazioni dure non lasciatevi trascinare dall'impedo e cercate di mediare le situazioni buone le relazioni inerenti la vostra attività possibile notizie vantaggiose anche economicamente sagittario si moltiplicano i favori del vostro quadro astrale che adesso tornano a sollecitare le faccende di cuore insieme ad un ventaglio di occasioni per accrescere il vostro prestigio personale confermare la vostra posizione o arrivare ad una meta ambiziosa datevi da fare capricorno brillanti mentalmente e presi da un momento che vi vuole in movimento avete buone possibilità di concludere trattative interessanti di fare valere le vostre idee giove dissonante non regala alcuna fortuna ma la vostra tenacia otterrà un premio acquario venere fa l'ingresso nel vostro segno e ammorbidisce le vostre giornate con i sentimenti vi predispone ad accentuare la vostra attenzione verso il partner verso chiamate e migliora ulteriormente lo stato di benessere interiore un momento davvero speciale pesci mercurio armonico ottimizza la vostra capacità di programmare e pianificare le idee sono chiare ma non siete altrettanto supportati da una adeguata energia fisica qualche dissonanza procura un po di fiacca e risveglia la pigrizia non fatene un problema buone stelle